Sono stati completati a vittoria i lavori allo stadio comunale. La struttura presenta adesso un altro aspetto con interventi mirati che hanno risistemato in tanti pannelli della tribuna, le vetrate di separazione, la rete di recinzione dal rettangolo di gioco, le nuove postazioni in tribuna stampa e l'installazione di lampade di emergenza per poter ottenere l'autorizzazione a disputare partite notturne. I lavori di completamento dell'impianto sportivo, dichiarato l'assessore alle manutenzioni Angelo Dezio, hanno anche consentito di risolvere in maniera definitiva l'accumularsi di acqua piovana all'esterno della struttura. Sono stati infatti realizzati marciapiedi e aiuole al fine di migliorare il decoro urbano in una zona del quartiere che merita tutta la nostra attenzione. Dezio ha inoltre mostrato apprezzamento per l'interessamento dell'esperto allo sport Fabio Prelati, in particolare per aver afferto un contributo importante nell'intervento che ha coinciso anche con i recenti positivi risultati della squadra. E proprio alla società e alla squadra l'assessore Vittorisa ha rivolto apprezzamenti per l'ottima conclusione della stagione agonistica.